La strada statale 106 Ionica torna a macchiarsi di sangue. Tragedia immane quella avvenuta nella tarda serata di ieri. Due vetture hanno impattato violentemente a pochi metri dal parco archeologico di Sibari a perdere la vita nell'incidente. Un giovane ragazzo di soli 19 anni, Mattia Porto, di Papanice, una frazione di Crotone. Il 19enne era in auto con altre quattro persone, rimaste ferite, due dei quali in modo grave e trasferite d'urgenza all'ospedale Annunziata di Cosenza, mentre gli altri sono stati portati al Giannettasio di Corigliano Rossano. All'interno della seconda auto coinvolta era presente solo il conducente, che non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per accertare le dinamiche dell'incidente. Il punto in cui è avvenuto l'impatto fatale è denominato il curvone della morte a causa del numero altissimo di incidenti mortali avvenuti su quella strada.